Ciao io sono Valeria Lomeo e insieme a Luciano Perbellini noi siamo fotografi e abbiamo fondato da un anno e mezzo un'academy con corsi di formazione per viaggiatori che amano fotografare. Il problema che noi avevamo nella nostra attività era proprio quello di riuscire a recuperare, acquisire clienti anche a livello nazionale non soltanto geolocalizzato. Quindi finché bisognava lavorare così localmente insomma tutto è andato bene. Nel momento in cui invece volevamo approdare all'online ovviamente lì nasceva il problema cioè da soli sapevamo di non avere le capacità soprattutto per non disperdere soldi a Vambera. Quindi abbiamo contattato appunto la Stratego Scott perché secondo noi è una tra le agenzie più affidabili e quello che volevamo noi loro lo capivano perfettamente e lo sapevano mettere perfettamente in pratica. Allora la paura più grossa e il dubbio più grosso che noi avevamo nell'approdare all'online era quello di non riuscire a trovare il target giusto. Tiravamo sul lead cioè che poi nel momento in cui finito l'evento gratuito si dovevano tirare fuori i soldi magari quello non era il target giusto o non era realmente così interessato. Siamo rimasti invece veramente tanto sorpresi dal fatto che la qualità dei lead che abbiamo tirato su era esattamente quello che volevamo anche adesso a distanza di mesi dove stiamo proponendo degli altri quindi dell'altra formazione di andare avanti con i percorsi quindi nonostante il front end gratuito il primo corso acquistato questo stesso target sta continuando a comprare da noi. La grande scommessa di trovare il target giusto è stato assolutamente vinto alla grande quindi grazie ai ragazzi di Stratego Sport per questo lavoro. Quando dico la scommessa è stata assolutamente vinta mi riferisco proprio ai risultati che abbiamo ottenuto perché intanto un workshop un tema di formazione che è stato lanciato comunque abbiamo avuto 1500 iscritti e il costo medio per lead è stato di 0,60 centesimi e da questi 1500 persone iscritti all'evento sono rimasti collegati fino alla fine in 795 e in 137 hanno poi acquistato il nostro percorso. Il risultato è stato veramente enorme e di questi 137 in 91 hanno poi riconformato l'acquisto di un secondo corso. lavorare con Bruno è stato molto efficace nel senso che Bruno mi ha fatto capire subito i punti da affrontare e come affrontarli ha capito perfettamente quali erano i veri argomenti su quale battere e li ha saputi veramente trasformare in copi come se lui fosse un fotografo fondamentalmente quindi è riuscito veramente a entrare con competenza nei contenuti nonostante non sia la sua materia. Tutto quello che ho detto fino ad adesso non è stato perché voglio fare una promozione gratuita ai ragazzi di Stratego Squad ma perché veramente se lo meritano quindi io li ringrazio profondamente di tutto l'aiuto che ci hanno dato fino ad adesso e che sicuramente continueremo con loro e se in qualche misura vi serve riuscire ad espandere il vostro business anche online io non avrei dubbi a dirvi assolutamente contattatevi. Grazie a tutti.